Noi siamo qui per vincere e siamo sicuri che Forza Italia con anche l'allargamento delle liste civiche rappresenterà un valore aggiunto e sarà determinante per la vittoria del centro-destra in questa regione. Tour nelle marche per Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e già presidente del Parlamento europeo. Durante la sua tappa a Fano, Tajani ha annunciato l'apertura al civismo per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Nell'incontro con la stampa è stata ufficializzata la candidatura di Stefano Guzzi. Abbiamo aperto i civici per le marche e candideremo l'amico Guzzi che è stato anche sindaco di questa città e ora è sindaco di Colli al Metauro e proprio il frutto di questo accordo politico. Poi se non diamo altri nomi della provincia. Stiamo lavorando con Elisabetta da altre espressioni civiche e credo che nel giro della prossima settimana avremo completato la lista. La scritta civici per le marche compare infatti sul simbolo scelto per le elezioni insieme a Forza Italia e a Berlusconi. Le marche, ha detto il vicepresidente, hanno bisogno di un cambiamento. Liste aperte ai sindaci civici che naturalmente abbiano gli stessi valori liberali, democratici, di garantismo, di difesa dei valori cristiani, che ha Forza Italia. Credo sia giusto che nelle regioni marchi ci siano consiglieri regionali che siano a voce anche delle aree interne. Questa è una regione doppiamente ferita, ha precisato Tajani, dal Covid e dal terremoto. Tra gli obiettivi rientra il sostegno al tessuto produttivo, due provvedimenti legislativi frutto dei nostri emendamenti. Il primo riguarda la possibilità di equiparare le attività commerciali, artigianali, di bar e ristorazione a quelle di ricezione turistica a fine di ottenere gli stessi vantaggi. Il secondo, invece, concerne il sostegno dal punto di vista fiscale alle imprese che investono in ricerca e innovazione. Questa regione, ha detto il vicepresidente di Forza Italia, deve tornare ad essere protagonista con le sue attività produttive. Noi ci auguriamo che il governo chieda, per esempio, di accedere ai fondi del MES, sono 36-37 miliardi. Questo significherebbe che alle Marche arriverebbe un miliardo per la sanità. Io credo che questo sia giusto per recuperare un terreno perduto in tutti i nostri paesi. Troppi tagli alla sanità. E poi, naturalmente, l'altra operazione da fare è quella di rafforzare la portualità di questa regione e lavorare anche per avere un collegamento più consistente con il porto di Civitavecchia, quindi cercare di arrivare ad un collegamento tirreno-adriatico, in modo che possa incrementarsi il turismo e possano anche incrementarsi i commerci. Tajani oggi si è fermato a pranzo in un ristorante di Piazza 20 Settembre, insieme a diversi politici del territorio. Oltre al candidato Stefano Guzzi, erano presenti il coordinatore regionale di Forza Italia, Francesco Battistoni, il sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, e l'assessore della città ducale, Elisabetta Foschi. Noi lavoriamo per raccogliere voti, allarghiamo le nostre liste, noi vogliamo vincere. Quindi siamo qui per vincere le elezioni, per cambiare un sistema che non funziona, un sistema clientelare, un sistema, abbiamo visto cosa è successo anche con il coronavirus nella provincia di Pesaro-Urbino, noi non vogliamo che questo accada mai più. Noi siamo sempre capaci di trovare la sintesi, a differenza della sinistra che è litigiosa, e ancora in questa regione non ha dimostrato di essere in grado di trovare una sintesi.